Benvenuti in questo nuovo video Sto finendo il materiale visto che ho sotteso l'assicurazione alla moto Oggi vi voglio portare un video diverso Se così si può dire Ho portato in moto per la prima volta una ragazza Cioè, nel senso, era lei che saliva per la prima volta su una moto E vi faccio vedere la sua reazione Ovviamente questo comporta una cosa Che è meglio precisare il team da subito Che non avendo esperienza eppure avendo spiegato Che cosa dovesse fare, come comportarsi come zavorra Non ha fatto mezza cosa di quello che le avevo detto Cioè, mi trovavo questa ragazza dietro Che mi stritolava la gabbia toracica E sentivo le costole che mi perforavano i polmoni Quindi non è stato proprio semplicissimo guidare con questa zavorra Con una persona che non era mai salita in moto Vi porto comunque il video Spero che vi piaccia Scusa Sei Speedy Wheels? No, Cassano Sei tu? Guariglia? Assente? Assente, assente, assente? Assente, assente, assente Cosa si prova ad andare in moto per la prima volta? A guardare me Tira un po' Di là, di là Ok, a posto? Che bello C'è tanto Dicono che hai guito da cani? È vero Fabri Oh, vai piano che è la prima volta Non farla spaventare se si muove male Piano Oh No, 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 piano 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 Oh mio Dio Oh mio Dio E' tutto bene è un paura oh my god no oh my god mezza cosa di quello che gli ho detto oh mio dio niente non è che sono riuscito ad andare molto paura adesso tocca a lui e invece non vedrete la prova di lui di Simone che porta Sergio in moto perché è una meba non ha fatto niente una piega un urlo un bau zero quindi faccio finire qui il video tanto per quello che poteva essere lungo una cosa del genere come al solito iscrivetevi al canale lasciatemi un commento potrebbe magari diventare un nuovo format portare in giro gente che non è mai stata in moto fatemelo sapere nei commenti seguitemi anche su Instagram e noi forse ci vediamo a un prossimo video ciao grazie ciao